Il Manchester City, campione d'Europa, vince anche il Mondiale per Club e diventa campione del mondo per la prima volta nella sua storia, ma è la quarta volta per Pep Guardiola l'allenatore che ha vinto più volte questo titolo. Competizione che adesso cambierà format e diventerà il Mondiale per Club FIFA con 32 squadre dal 2025, una cosa tra l'altro discutibile. Ma una vittoria, una vittoria 4-0 contro il Fluminense in finale caratterizzata da più gioco, più tiri, più occasioni e quindi una partita giocata alla grande nonostante l'assenza ancora di De Bruyne cui comunque Guardiola ha magistralmente fatto fronte anche con l'integrazione, con l'inserimento di Rico Lewis, giovane valorizzato, ma anche ricordiamo con l'assenza di Holland ancora ma con Julian Alvarez che, autore di una doppietta, stabilisce anche un record. È il terzo giocatore nella storia dopo Dida e Cafu a riuscire a vincere Champions League, Coppa America, Mondiale per Club, Coppa del Mondo e Coppa Libertadores. Il 37esimo trofeo da allenatore per Pep Guardiola, ma deve essere merito dei soldi spesi, deve essere merito dei giocatori comprati, del fatto che può comprare tutti i giocatori che vuole o forse della violazione delle regole del fair play finanziario Premier League quando lui non era neanche allenatore del City. E quindi alla fine cosa possiamo dire? Che probabilmente Guardiola ha vinto quello che avrebbe vinto qualsiasi altro allenatore al posto suo, no? Cioè togli Guardiola, metti un altro, vince gli stessi trofei, in particolare quelli del City, no? Infatti sebbene in Italia l'evento sia stato trasmesso sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio con diciamo un audience importante anche se spettatori in simultanea non c'è mai stato un picco particolarmente significativo quindi da una parte possiamo dire che c'è interesse per il calcio e per il calcio internazionale gratuito su YouTube e in generale da parte dei tifosi di calcio in Italia anche se si potrebbe fare meglio da un'altra parte diciamo anche che di questa finale, di questo torneo, di questo Manchester City, di questa partita si è parlato pochissimo nei media italiani forse perché dà fastidio, crea disagio, crea imbarazzo dover parlare dell'ennesimo trionfo di Pep Sì a qualcuno sicuramente dà fastidio dover parlare di questo allora si evita poi però si vuol fare la Superlega legittimo per carità aspirare alla Superlega sperare che venga realizzata ma un po' ipocrita parlare di Superlega come quel torneo in cui ci sono le migliori partite le partite più belle con grandissima intensità nel calendario e quindi il miglior torneo possibile poi però ci sono partite interessanti non le si vanno a guardare e si omette di sottolineare quando una squadra fortissima fortissima vince un altro titolo con un allenatore bravissimo che vince un altro titolo ma forse il trofeo più importante vinto da Guardiola è quello di essere colui che ispira milioni di appassionati di calcio a guardare calcio a seguire calcio in tutto il mondo perché squadre come quelle di Guardiola sono quelle che ti avvicinano di più alle emozioni che il calcio ti può regalare a prescindere dai trofei grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti